Sei pronto a scattare le prime foto? Sono nato per fare foto a mutandine Magari tu Ami Senpai Oppure tu Oppure tu Scusa sto raccogliendo una matitina No Non ce l'hai fatto Ho sbagliato Sto raccogliendo scusa mi è caduta anche la gomma in questo momento E ragazzi come va? Io sono Feriniki E io sono Steph E qui se ci giocheremo a Yandere Simulator E siamo tornati Siamo felicissimi che il primo episodio vi sia piaciuto così tanto E possiamo iniziare col nostro secondo giorno di scuola Uh che bello Non vedevo l'ora Sai quali sono gli obiettivi di oggi? Ok dimmi dimmi Esploreremo la scuola perché ancora non abbiamo visto cosa tutto c'è in questa bellissima scuola Guarda com'è gigante Esatto Come ci saranno un sacco di cose fighe E poi abbiamo il nostro primo obiettivo Dobbiamo eliminare Kokona Chi è? Una nostra rivale Sai perché? Perché abbiamo scoperto tramite Infochan Che anche lei ha una cotta per il senpai Come si permette Dobbiamo farla fuori Cioè no E poi è anche colpa nostra Comunque che abbiamo creato questo senpai troppo bello Esatto Quindi ce lo dovevamo aspettare Che prima o poi qualcuno Esatto Qualcun'altra lo volesse Secondo me ce n'è anche più di una guarda Perché Dovremmo scoparle tutte È bellissimo Cioè anche io lo voglio È assurda questa cosa Magari tu Magari tu ami senpai Oppure tu Oppure tu Oppure tu Perché secondo me anche i maschi lo possono volere Ah hai ragione Hai ragione Non si sa mai Non si sa mai Ok Quindi abbiamo un po' di tempo per vedere cosa c'è Magari troviamo qualche posto Qualche posto nascosto Magari i bagni Beh interessanti i bagni No dicevo qualche posto nascosto dove poter fare fuori Perché c'è così buio Perché un bagno Dove poter fare fuori Cocona capito Fammi finire le frasi per favore Va bene scusami Belli questi bagni Allora se volete vedere questo è un bel water Ah ok bello interessante Carino Grazie Grazie Eh vabbè Un po' di cielo Ok Sì Vabbè Cosa è che capita Tutto a posto Vai vai entra Che è Uh vapore Ma non è che questo è il club dell'occulto No È strano Vai dentro Ok ciao Ma questa è una sauna Qualcosa del genere Guarda il vapore che c'è Una sauna per forza Uh E vedi Cioè in questa scuola hanno che cosa Le terme Che cos'è Aspetta Questo è il nostro armadietto Che ci siamo messi il costume da bagno Ok beh Proprio quello giapponese classico Che si vede in qualsiasi anime anche questo E poi guarda Bellissimo Guarda che altro c'è Anche questo È proprio la classica divisa giapponese Cioè mi sto uccidendo sta cosa è bellissimo Allora E poi per quelli un pochettino più birichini Abbiamo Che cosa stai mettendo Il nulla Ok Le nuvolette Le nuvolette come B senpai Esatto Le nuvolette Quindi dai rimettiti la divisa della scuola Vai avanti Fammi vedere cosa c'è Scusa Da qualche parte arriverà questo vapore Scusami Beh certo Qua ci sarà il bagno a sto punto Guarda Vedi Tu qua ti Ah qua ti puoi fare il bagno Poi ti puoi sedere Asciugarti i capelli Cioè ma scherzi Ma non è vero Qua ti fai la doccia E poi Entri qui No lo vedi che questo è un phon per capelli Stai sudando La mia Merdagine di anime Ascoltami un attimo Questo è un phon per capelli Tutti ci siedi Vedi che c'è anche la lozione per i capelli Ascoltami Quelli Quello è uno shampoo E quella è la doccia Ma perché Ti fai la doccia da seduto Dopodiché entri in vasca Perché Perché Scusa Allora Aspetta Fanno così i giapponesi Gitto un attimo Ascoltami Ora glielo dimostro Se io mi sono lavata da seduta Che senso ha che poi debba entrare nella vasca Guarda Guarda Adesso te lo dimostro Perché Ma scusa Se sono già lavata Perché poi devo entrare nella vasca Perché quell'acqua È un'acqua termale Già calda Figa Limpida Ok Se tu ci entri da sporco La sporchi e fa schifo Perché ci entrano tutti lì Rimane sempre quell'acqua Sì ma anche se ti sei lavato prima Fa schifo uguale Se entri spogliato lì dentro Cioè non è molto Discutibile Molto meglio No non posso usarli Anche se mi sono cambiato Non posso utilizzare No però tu sei ragione Sto pensando ad alcune scene che ho visto Ecco Grazie Non in cose strane In anime normali Ok Ok Che sì È vero Fanno sempre la doccia seduti Adesso me lo so ricordata In uno che abbiamo visto proprio ieri Guarda Quindi Finalmente Lo hai ammesso È un'usanza strana Ma ditemi voi Se è normale pensare Che prima ti lavi da seduta E poi entri nella vasca Cioè no In ogni caso abbiamo perso un sacco di tempo E dobbiamo andare a scuola A fare lezioni A scuola Siamo a scuola A fare lezioni Altrimenti ci buttano fuori Le lezioni non vanno saltate Mi raccomando Finita un'altra lezione Sai cosa facciamo adesso? Magari durassero così poco Che cosa? Allora dato che non possiamo mangiare In questo gioco Abbiamo visto che non abbiamo la possibilità Di sederci a pranzare Andiamo ad iscriverci in un club Possiamo comprare dei drink però Guarda Ma che stai facendo? I drink Li stai buttando in terra Dai Allora La metti E' troppo divertente Adesso si rompe la macchinetta Vedrei che ci butteranno fuori Per questo motivo Va bene per tutti Ci facciamo nuovi amici Così Sono un po' Un po' bagate Ste macchinette Ok Ok Dimmi Allora ci iscriveremo Ad un club Perché lo sai che c'è stato Flavio Ok Che ci ha riempito di commenti Ciao Flavio Esatto Lo salutiamo appunto perché ci ha scritto davvero tantissime cose sul gioco E ci ha consigliato il club di fotografia Ci è piaciuta questa idea E abbiamo deciso di seguire il suo consiglio Esattamente Perché con il club di fotografia possiamo fotografare Adesso ti sembrerò una maniaca ma è così E lo sei Le mutandine delle altre studentesse e fare un vero e proprio contrabbando di mutandine E di foto sconce Mi piace Io non vorrei dire ma è la cosa che mi ha fatto più ridere Quindi come primo club sceglieremo questo Ok Allora Sì guarda Fotografi club Però Io avevo visto questa tendine E se tu leggi C'è scritto info club Ok Guarda Ti faccio vedere una cosa Allora praticamente Vedi qua abbiamo i favori Mi dimentico che lo premerei E vedi E c'è lei che è tutta misteriosa Info channel Lei è info channel Che ci dà le info su tutti gli altri studenti Esattamente E guarda Puoi spiare dalle tendine Esatto Ma che Oh mio dio Ma è lì dentro È lei È uguale Cioè ma A questa qui Le permettono capito di Di restare nella scuola E comunque sa Anche che ci siamo C'è terribile Sì ha detto So che ci siete Andate via Non c'è nulla da vedere qui Ma trova paura Lasciale in pace Lasciale in pace Andiamo nel nostro club In ogni caso adesso sappiamo anche dov'è E infatti non possiamo entrare E vedi Eh Cioè queste le permettono di stare nella scuola A spiare tutti Ma che secondo me nessuno lo sa Che lì capito Ma dai ci sono le tende Apri la vedi No Forse è nascosta Oh che bello il nostro club C'è così tanta roba Siamo gli unici Siamo gli unici Ha un bonus Questo ci permetterà Di avere più opzioni Per la fotocamera Ok E non sarei considerato sospetto Quando fai le foto Agli studenti in faccia Perché quando gliele fai Loro tendono ad essere un po' sospettosi Giustamente Ma che scusso Io voglio fare una foto Solo che vabbè Adesso per strada Viene una casaccia Ti fa una foto E sei tranquilla Ma sì a scuola Tecnicamente si conoscono Vabbè comunque Abbiamo la possibilità di girare E infatti guarda Con la nostra bellissima fotocamera Proprio per dimostrare in faccia a tutti Che noi siamo dei fotografi Sei pronto a scattare le prime foto? Sono nato per fare foto a mutandine E' terribile questa cosa però Mi fa ridere Io non ci posso fare niente Mi fa ridere Io trovo geniale questo gioco Cioè guarda Non so cosa dirti Allora Loro che sono sedute Se noi prendiamo un'angolazione del genere E zoomiamo No 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 Scusate scusate Si sono accorte di qualcosa Allora Perché non ti accovacci scusa Vai dietro Allora vai dietro da un angolo scusa Cerchi di prenderle Tipo le Allora quelle si sono girate Lei è qua ferma E' ferma da stamattina Noi ci abbassiamo Ok Ma non ce la facciamo Ok 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 Cheese Salva la foto Salviamo Ok Guarda come si è messa Allora Praticamente La possiamo Vedi mandare Eccellente Adesso una foto di Midori Perché ovviamente Non so come riconosce Di chi sono le mutandine Non riconosce esatto i nomi Di chi sono E' davvero terribile sta cosa E dice che ci deve Un favore Per questa foto Sì ma poi in foccia anche vuole foto di mutandine Ne vogliamo parlare In foccia ne va lasciata Già è chiusa lì dentro tutta al buio Non è molto molto Cioè è molto normale questa ragazza Bisogna sfruttare Perché comunque ci dà una mano E far finta per il resto Perché è meglio così Guarda Comunque mi è venuta un'idea Che idea E' un'idea Adesso cerchiamo Cocona La nostra rivale numero uno Sì E mandiamo le foto anche su di lei Ecco Perché magari ci farà il favore Di buttarla fuori O qualcosa del genere Dovremmo inventarci qualcosa Mentre vai in classe Eh ma No, ma sei davanti a tutti Non penso che puoi fare le foto così davanti a tutti Sì, 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 perché guarda Adesso noi facciamo finta di essere Di andare nel banco così acobacciati Esatto, scusa, sto raccogliendo una matitina No, non ce l'hai fatta Ho sbagliato Sto raccogliendo, scusa, mi è caduta anche la gomma in questo momento Ma non fa È una campionessa Lei sa come proteggere le sue mutandine Oh mio Dio Allora, no, sono in classe Ok, dobbiamo andare anche noi a lezione adesso Quindi vai a lezione e poi Ci riproviamo dopo Ci riproviamo, esatto Late for class, cavolo è tardissimo Ok, ok, ok Inizia a riempire il secchio Vediamo se la becchiamo Magari è un momento in cui è uscita Perché è pausa C'è una pausa in questo momento nella scuola Quindi magari escono in cortile a commirare qualcosa Guardala, guardala Sta parlando al telefono Sta parlando al telefono Ma così le rompiamo anche il telefono Ma frega, te ne buttaglielo Ma sei sicura? Vai Sicura? Certo È uno scherzo brutto questo Ma noi la odiamo Quindi, cioè, non ci deve interessare di quello che pensa Vabbè Vai Vai Scusa Cioè che poi a quell'altezza ti ammazza Una cascata d'acca in questo modo Dove sta andando? Si è spostata? No, è ancora lì so Ok Seguiamola Seguiamola che le facciamo una foto Ho bisogno di cambiare i miei vestiti Ha detto Dai che le facciamo una foto dei vestiti bagnati Seguila Andiamo, andiamo, andiamo Devo scendere velocissimo Abbiamo questo problema di essere troppo più in alto di lei È normale Allora, mi sembra che sia corsa verso qua Non ci dobbiamo far vedere È sicuramente qui, dai Quando c'è? Vai più avanti Vai Eccola Che nuda Aspetta Guardala Guardala Ok Questa la salviamo Ma ne voglio una già davanti Aspetta Aspetta Non farti notare Non farti notare Fai piano Cioè tu le fai in gavettone E lì è andata a farsi direttamente tutto il bagno Va bene, va bene Brava Cocona Ma ci hai fatto avere la foto che desideravamo È scomparsa per un attimo E anche i nostri capelli scompargono Ok, ok Dai ne abbiamo E questa è l'ultima Ne abbiamo davvero tante, guarda Noi speravamo di prenderla con i vestiti bagnati Ma invece l'abbiamo presa Was this just a prank? E invece l'abbiamo presa in un momento ancora più imbarazzante, guarda Guarda Crash Senpai Quindi alla cotta per Senpai È giusto per avere E guarda La club cooking Perché vuole cucinare le cose buone per Senpai Non va bene sta cosa È proprio una nemica Tanto ho appena mandato la foto a InfoChan E lei sa cosa fare Ovvero farla vedere a tutta la scuola Così lei morirà di vergogna E non tornerà mai più È una bella vendetta Siamo a casa E sai cosa possiamo fare per concludere in bellezza questa giornata? Sì che lo so Appendere le foto Perché dovremmo ricordarci per sempre di questa giornata Io diridio Guarda l'ultima che bella L'ultima è proprio artistica Mettila Guarda abbiamo tolto tutto Per lasciare proprio al centro La nostra nemica Perché lei dovrà fare per forza una brutta fine Dovremmo farla mandare via dalla scuola in qualche modo Io te lo dico Esatto Questa per ricordare il nostro successo La mettiamo qua Poi Perché dobbiamo fare proprio È capito Faremo alla fine di ogni giornata Ok La baccheca con i nostri successi migliori Ti piace come idea I momenti più eclatanti Li metteremo qua Per ricordare in quello che siamo riusciti a fare Mi piace Mi piace questa idea E infatti oggi siamo riusciti ad avere delle foto sconce E guarda la foto del bagno Quella io ripeto È la foto più artistica che siamo riusciti a fare Il club di fotografia sarà fiero di noi Insomma Diciamo che una macchina fotografica Non andrebbe utilizzata così Ma vabbè In ogni caso ci fermiamo così Sperando che basti per distruggere la sua reputazione E farla scappare via dalla scuola Così rimarrà soltanto una nemica Ovvero quella che sta sempre sotto l'albero Ma visto che sta sempre lì Non è un pericolo E tanto è ferma là sotto l'albero Ce ne possiamo fregare È ferma all'infinito La nostra nemica è lei Beh ragazzi il video finisce così Se vi è piaciuto lasciatrici un bel like E se è la prima volta che vedete il nostro video Potete considerare l'idea di iscrivervi Per non perdere gli altri episodi Ciao alla prossima Ciao ciao Stef cosa stai facendo? Dai dobbiamo uscire muoviti Un attimo un attimo Stai facendo una cosa importante per i video Ciao a tutti 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 Ciao a tutti